buongiorno a tutti nei prossimi due minuti parleremo di open platform communication un acronimo ormai divenuto molto popolare quando si parla di comunicazioni industriali il nostro intervistato di oggi è infatti peter lutz director field level communication presso opc foundation responsabile dello sviluppo della specifica opc ua che sta per unified architecture un standard globalmente riconosciuto per le comunicazioni industriali sia per l'ambito manufiattudiero che di processo so good morning peter and welcome good morning thank you so can you explain us which is the current status quo of the opc ua specification and which is the roadmap of its deployment certainly i can so actually we launched our field level communications initiative approximately three years ago so we have been working on the specifications since then with a lot of engaged companies and experts actually over 320 experts from all over the world and now we have created and completed our first set of specifications that are currently in the member review so what we have been specifying our extensions to opc ua to cover the various requirements for factory automation and process automation so extensions to the opc ua framework to cover additional use cases such as motion control functional safety remote ios process instruments and this is all based on existing opc ua technology and we even created a first demonstrator with many companies involved among them the the biggest automation and the suppliers in the world so this is a big step forward for our initiative thank you very much peter possiamo quindi dire in sintesi che opc ua sarà in grado di garantire un flusso dati trasparente senza soluzione di continuità fra il livello it e livello ot aziendale quindi assicurando interconnettività e interoperabilità nell'ottica di industria 4.0 per questa intervista è tutto vi invito a seguire anche le prossime interviste di automazione oggi su altri temi di attualità arrivederci alla prossima